La votazione è solo per coloro... Lui è l'avvocato Alessandro Patti ed è il difensore di Domenico, Luca e Salvatore Adorno, e di Maria Annunzia Stendardo. Loro sono i familiari della vittima, lui Giuseppe Adorno, e sono parte civile al processo contro il presunto assassino, lui Giuseppe De Rubeis, che è lei, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento. Alessandra Bella, a termine del giudizio abbreviato, ha condannato a 13 anni di carcere. E l'avvocato Patti, dopo il verdetto di primo grado, apprezza e non nasconde una vena di riserva. Il consigliere comunale Agrigentino ritiene che la sentenza abbia premiato la scelta della famiglia Adorno di fidarsi e di affidarsi alla giustizia, tra forze di polizia e magistratura. Però non si tratta della conclusione, e ciò emerge da quanto dichiara Patti, pur non conoscendo ancora le motivazioni della sentenza. E' sin troppo facile prevedere che la totale e definitiva proclamazione della verità processuale dovrà seguire un articolato e lungo percorso giudiziario. Dunque, appena saranno depositate e lette le motivazioni, al processo di primo grado seguirà, forse, un giudizio d'appello sulle fondamenta del giudizio in tribunale. E l'avvocato, infatti, afferma. Adesso è stata posta una pietra miliare che consentirà alla famiglia Adorno di affrontare il processo con rinvigorita fiducia nella magistratura, inquirente e giudicante, dopo tante beffarde amarezze. E Patti non spiega nel dettaglio quali siano state tutte le tante beffarde amarezze, ma ne cita una sola su tutte, l'iniziale archiviazione dell'inchiesta. Ricordate, il 17 novembre 2010, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Gian Gaspare Camerini, così come richiesto dalla direzione distrettuale antimafia, ha archiviato l'inchiesta sull'omicidio di Giuseppe Adorno. 25 anni, ucciso il 24 agosto 2009, in cui sono stati indagati i fratelli Giuseppe e Gerlando Di Stefano, insieme a Giovanni Di Stefano, figlio di Giuseppe, e poi Giuseppe Filippazzo, cognato dei Di Stefano, e l'idraulico Giuseppe De Rubeis, tutti di Porto Empedocle. Poi la svolta. Il 20 gennaio 2012, il Tribunale delle Riesame di Palermo ha accolto l'appello della Procura di Agrigento, firmato da loro due, il procuratore aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto Giacomo Forte, ed è stato arrestato De Rubeis, compagno di scuola e presunto omicida di Giuseppe Adorno, e che avrebbe calugnato I Di Stefano e Filippazzo, accusandoli falsamente di essere stati gli autori dell'omicidio, conoscendo invece la loro innocenza.